Sì, sì, abbiamo vinto, sì ragazzi, sì, mamma mia, contro i campioni, abbiamo vinto contro i campioni, noi che ci lamentiamo che sudiamo ogni volta gol, ogni partita, ogni gol, contro i campioni manco quello, clean sheet ragazzi, pure contro il Chelsea E adesso vedo qua quelli che dicevano, eh ma contro il Malmo è facile, anche contro il Chelsea era facile, è vero ragazzi? Mamma mia che Juventus, mamma mia che Juventus, Allegri un pazzo, Allegri un pazzo perché io appena ho visto la formazione mi sono messo le mani nei capelli ragazzi, perché appena ho visto che non c'era Chiellini e ho pensato a Lukaku, ho detto ma ragazzi ma che se lo prende Lukaku? Un Bonucci, un De Lick straordinario l'hanno quasi annullato, quasi perché proprio Cazzo di Piccolosa l'ha avuta, ma l'hanno quasi annullato Ho visto l'attacco con Bernardeschi Chiesa, Chiesa ero d'accordo, Bernardeschi un po' meno perché volevo Ken all'inizio, ma anche lì Allegri mi ha mutolito perché il gol di Chiesa ragazzi c'è un grandissimo assist di Bernardeschi Quindi bravissimo Allegri mi ha smentito, anche se la formazione iniziale non la volevo così io, ma ha avuto ragione lui, mamma mia che Juventus ragazzi, mamma mia non me l'aspettavo, sono contentissimo Sono contentissimo, un po' meno per Prime ragazzi, sinceramente ho avuto problemi, devo essere sincero, mi laggava troppo, mi si bloccava, a volte mi si pixelizzava tutto Cioè vedevo una forma di pixel, vedevo malissimo la tv, uno si fa 300.000 abbonamenti, poi manca una partita in santa pace, si può guardare E questa cosa mi dà veramente fastidio, perché quando gioca la Juve è ancora peggio Però abbiamo vinto, su quello magari poi ci vediamo un'altra volta, però abbiamo vinto ragazzi, sono contento, siamo a 6 punti, lo Zenith batte il Malmo Quindi era fondamentale vincere questa partita e l'abbiamo vinta, 1-0, col brivido all'ultimo, al novantesimo perché Kai Evers ragazzi all'ultimo ci ha messo in difficoltà con quel copro di testa Ma va bene così, va bene così, un Locatelli straordinario in centro campo ragazzi, Locatelli assurdo a centro campo Chiesa ragazzi, Chiesa con quegli strappi, ha avuto l'occasione nel primo tempo dove è partito in contropiede, la palla esce fuori di poco Anche poi in un'altra azione che punta Cristian, se è in avanti tipo di due metri, lui in velocità, riesce a recuperare questi due metri di distacco e superarlo Che forza fisica Chiesa, e poi ragazzi sull'assist, lancio di Bonucci nel secondo tempo, colpo di testa di Rabiot, anche Rabiot non mi è dispiaciuto Lo stesso Bentancur, la parola di Bernadesi che fa un assist assurdo per Chiesa che vede che taglia e Chiesa poi col mancino forte, forte, fortissimo Sul primo pallo sotto la traversa ragazzi, buca Mendy e ce la portiamo a casa noi, e ce la portiamo a casa noi questa ragazzi Questa vittoria qua dà un morale assurdo alla testa dei giocatori che non avete idea, questa vittoria qua devi dare morale, un morale assurdo alla testa dei giocatori Per poter risalire in campionato anche, ma bravi 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 ragazzi, bravi tutti, veramente bravi tutti Comunque ragazzi anche maglia nuova, giusto perché forse è la Maya che ha fatto bene ragazzi, mi è arrivata finalmente la Maya Quindi poi arriveranno anche le live reaction, penso di farla già da sabato contro... Penso di farla già da sabato, che giocherà un sabato visto, in campionato Sarà la Maya che porta bene, non lo so ragazzi, però comunque che bello, tra l'altro la Maya è di finire con Chiesa ragazzi Non perché sarebbe proprio cari nostri, ma è di Chiesa la Maya, quindi ancora, ancora meglio Cioè ha preso la Maya di Chiesa, è arrivato oggi e Chiesa ha segnato contro il Chelsea Che bello, anche la mia ragazza l'ha presa, infatti quella appesa nel muro Spettacolo ragazzi, spettacolo E ripeto, una Lega che mi ha sorpreso perché la formazione non me l'aspettavo così Una formazione che comunque ha avuto ragione, un Bentancur che sbaglia sempre qualche passaggio Però comunque ne ha recuperati di palloni ragazzi, ne ha recuperati Un Locatelli mostruoso, ripeto, Chiesa e Bernardeschi alla fine si sono trovati Si sono trovati, abbiamo sprecato qualche contropiede nel primo tempo, dove potevamo fare meglio Quello secondo me si, però oggi hanno giocato tutti bene ragazzi Oggi hanno giocato tutti bene Forse Kuluseschi e McKennie quando sono entrati mi aspetto sempre qualcosa in più da loro Forse loro sono stati poco incisivi, però per il resto ragazzi tutti, tutti, tutti bravi Tutti bravi, ripeto L'unica problema è, ripeto, fra in video che non mi ha permesso di dire una partita proprio fluida Ecco, l'unica pecca è quella, però sono veramente contento Cioè un tifoso di Ventino oggi deve essere contento perché non era scontato vincere Assolutamente no, ci mancavano persino Di Bale e Morata ragazzi A loro mancava Kanté, che Kanté a cento campo fa tutto lui Kanté è un mostro a cento campo Però comunque Giorginio e Kovacic non mi sembrano dei giocatori così scarsi A noi ci mancavano Di Bale e Morata, ci mancavano le punte Quindi assenza da una parte ma assenza anche dall'altra Adesso andiamo a giustificare che magari ci sia perso perché non c'era Kanté Perché non vuol dire niente ragazzi A noi ci mancavano le punte Quindi abbiamo giocato anche senza Chiellini che per noi è un muro Quindi ragazzi va bene così Lukaku annullato Lukaku dove verso secondo tempo mi ha fatto un po' preoccupare Perché una volta è riuscito a piare bene il tempo a Bonucci Riesce anche a girarsi bene e a tirare col mancino Per fortuna la palla va alta, per fortuna la palla va alta Meno male Kajavers all'ultimo, il 94esimo ragazzi Riesce a impattare di testa Soprando forse Locatelli nello scontro aereo E la palla anche lì va alta di poco sopra la traversa E meno male, meno male perché io stavo già preoccupando Però un Chelsea che nel primo tempo ha fatto poco Ragazzi ha avuto solamente un'occasione con Lukaku Forse sul calcio d'angolo Passaggio alla sotterra, Lukaku taglia bene Tira di prima col mancino Palla alla sotterra centrale E bloccata da Chelsea Quello ha fatto Chelsea nel primo tempo Ci ha dominato sul fatto del possesso palla Perché ci ha dominato Ma la Juventus era questa la vita che voleva fare Cioè far giocare l'avversario E di partire in contropiede E comunque potevamo far male in contropiede Poi nel secondo tempo un approccio perfetto Siamo entrati e abbiamo segnato Secondo tempo siamo entrati e abbiamo segnato Perfetto così Però la partita è stata provata in questo modo Ed è stata perfetta ragazzi Perché quando non subisci gol È bello ragazzi La Juventus in Champions non ha ancora subito gol Col Manu non ha subito gol Col Chelsea non ha subito gol Io vorrei vedere anche un clincito adesso in campionato Però morale Da morale questa vittoria Questa vittoria qua da morale ragazzi Da morale Ripeto il Chelsea non ha subito neanche più di tanto Le occasioni pericolose del Chelsea sono state quelle di Lukaku Dove si è girato bene Ha tirato alto E quella di Kayaverse Perché poi per il resto Si avvicinavano un po' pericolosamente A nostra area Ma a livello di tiri Chelsea non ha fatto i paratoni Un Chelsea che comunque Nell'uscita oggi Devo dirlo perfetto Ha fatto delle uscite buone Quindi va bene così E anche Quadrado Danilo Ragazzi Ottimi Ottima partita Anche lo stesso Alexandro Bravi tutti Per fare una vita così ragazzi Comunque tutti devono dare il loro Tutti devono dare il loro E stasera loro lo hanno dato bene E sono contentissimo Veramente Grande Juve Grande Juve Veramente Adesso siamo a 6 punti Lo Zenit ha vinto Adesso dobbiamo andare comunque contro lo Zenit Va bene Va bene ragazzi Scusate anche Lo dico già qua adesso Sono sui topologi dell'Atalanta Ma non potevo Per l'Atalanta Però contento per la Dea Ho visto che ha vinto 1-0 Va bene così Vanno anche loro da 4 punti Quindi Perfetto ragazzi Perfetto Perfetto così Le italiane stasera Hanno fatto benissimo Io non posso che essere contento Vedete ragazzi Io direi che il video può finire qua Quindi se vi ci lasciano un bel like Comment In questo video In commento Per sapere voi Cosa ne pensate Di questa partita Di Juventus-Celsi E soprattutto ragazzi Mi stai giocando Iscrivetevi al canale Che è un po' di Se non cosa ne vuole Voglio vedere tanto Condivete il video Che vuoi se mi fa Iscrivete anche loro E attivatevi un nuovo notizio Che ci vediamo per i prossimi video Ragazzi Domani le pagelle Pagellone domani Fino alla fine Forza Juve Bravi bravi Bella